Salve a tutti. Prima di poter iniziare a programmare con il simulatore del tornio CNC che abbiamo visto in precedenza, abbiamo bisogno di approfondire la tabella delle funzioni preparatorie G. Queste funzioni preparano la macchina allo spostamento, indicando il modo in cui devono eseguire questi spostamenti. In questa tabella, dove sono reperibili queste tabelle, o su internet o comunque è sempre consigliabile utilizzare la tabella specifica della macchina utensile che stiamo utilizzando. Noi stiamo utilizzando un simulatore e io ho scaricato una tabella con le funzioni G e le funzioni ausiliari M semplicemente da internet. Andiamo a vedere nello specifico alcuni codici che andremo ad utilizzare. Ovviamente, come vedete, i codici, le funzioni preparatorie G, i codici sono caratterizzati dalla lettera G seguita da due cifre. Il nostro simulatore non fa differenza, ad esempio G02 va benissimo anche G2, G01 va benissimo anche G1, quindi non vuole per forza la doppia cifra, ma sostanzialmente il codice è composto da una lettera, la lettera G, e due cifre. Specifichiamo subito che le funzioni si dividono in modali e non modali. Modali sarebbero memorizzate e non modali non memorizzate, cioè che si vanno ad eliminare nel blocco successivo. Ad esempio, la funzione G con 0, 0 è un posizionamento rapido, quindi l'avanzamento in rapido, cioè sarebbero tutti quegli spostamenti che l'utensile fa quando non lavora, quindi quando non asporta truciolo. Questa qui è modale, cioè se io successivamente nel blocco successivo, nel rigo successivo, inserisco un'altra coordinata e non specifico, non cambio la modalità di spostamento, lo spostamento avverrà, se era stato impostato G con 0, 0, se lo ricorda e avverrà sempre in modalità rapida. Se voglio cambiarlo, ad esempio con G con 0, 1, devo prima inserire G con 0, 1, prima di andare a mettere appunto le coordinate. Allora, ad esempio G con 0, 1 è l'interpolazione lineare, cioè uno spostamento lineare, che però dipende, diciamo, la cui velocità dipende da alcuni parametri che devo andare ad inserire sempre durante la fase di programmazione, cioè comunque è uno spostamento lineare, che quindi segue la traiettoria di una retta, ma che deve, in un certo senso, rispettare le velocità o l'avanzamento che io ho già, diciamo, inserito all'interno del programma. Andiamo avanti. Con G con 0, 2 e G con 0, 3 possiamo fare delle interpolazioni circolari, quindi seguire delle traiettorie circolari, che possono essere in senso orario o anti-orario. A cosa potrebbero servire? Ad esempio, ad andare a fare un raccordo su uno spigolo. Vedremo in questo video solo le principali o quelle che andremo ad utilizzare più spesso nel nostro simulatore. Quindi io scendo. Per quale motivo è consigliabile utilizzare una tabella relativa, specifica della macchina? Perché alcuni codici potrebbero variare da macchina a macchina. Tutte queste, da G54 a G59, servono a spostare sostanzialmente l'origine degli assi. Nel nostro caso non le utilizzeremo sul simulatore perché, diciamo, dalla sezione dove si va ad inserire il diametro del pezzo, la lunghezza del pezzo, c'è la possibilità di spostare l'asse Z in avanti o indietro andando semplicemente ad agire su un pulsante, su un più e su un meno. Fondamentale è capire la differenza tra G90 e G91. Sono due modi diversi di inserire le coordinate. Una è, viene detta, modalità assoluta. Che cosa vuol dire? Che le coordinate fanno riferimento a un'origine degli assi che è fissa, ok? Che possiamo sempre cambiare, però è fissa, è sempre quella. Quella modalità in incrementale, invece, le coordinate cambiano, ok? Variano di volta in volta. Cioè, una volta che noi inseriamo una coordinata, quella coordinata diventa la nuova origine degli assi. Ne inserisco un'altra, successiva, quella successiva diventa l'origine degli assi. Per questo vengono dette incrementali. Il nostro simulatore funziona in modalità assoluta, nello specifico, quando si parla di tornio, si dice modalità diametrale. Cioè, quando noi andiamo ad inserire il valore dell'asse X, facciamo riferimento al diametro del pezzo. Infine, arriviamo a G94 e G95, che sono sostanzialmente, definiscono quanto velocemente si deve muovere il nostro utensile quando lavora. Quindi, modalità di lavoro. Sono due modi per esprimere, con due unità di visura diverse, la stessa cosa. Quindi, io inserisco G94 o inserisco G95 nel programma. Da cosa dipende la mia scelta? Beh, da ciò che trovo sulle tabelle delle velocità di taglio. Ok, se nella tabella delle velocità di taglio che mi viene fornita, o comunque che trovo su internet, viene, diciamo, espresso in millimetri al minuto, imposterò prima G94 e darò il valore che è, diciamo, espresso in millimetri al minuto. Altrimenti, in millimetri al giro. Andiamo avanti. G96 e G97. Anche esse sono due modi diversi di esprimere la stessa cosa. Cioè, quanto, diciamo così, quanto forte deve ruotare il nostro mandrino. Questa può essere espressa in metri al minuto. Quindi parliamo di velocità di taglio, perché è uno spazio, metri, fratto, tempo, quindi una velocità, oppure di giri al minuto. Nel prossimo video vi mostrerò i codici delle funzioni ausiliare M.